Quale locandiere diventerà più ricco? Oggi giochiamo Fairy Tail In Ciao a tutti giocatori, giocatrici e semplici curiosi Noi siamo Giullari come ogni lunedì e mercoledì Siamo qui nella nostra mansarda per un nuovo gameplay E quest'oggi ci sfidiamo per l'appunto Fairy Tail In Come sempre un grazie a tutti voi che ci seguite Se vi va lasciateci un bel like per supportare il nostro lavoro E se volete potete anche seguirci su Patreon dove avete un sacco di contenuti esclusivi E oggi sul nostro tavolo Arts in Ligna io e Albi ci trasformeremo in locandieri Perché i personaggi delle favole sono arrivati in città per la grande fiera delle fiabe Però devono trovare un posto dove dormire prima che scocchi la mezzanotte Quindi i due locandieri si sono ingegnati per cercare di trovare posto a tutti E quindi riuscire a guadagnare più soldini E quindi Vale oggi sarà Mirandolina che non è più giovane a qualche annetto Ma anche lei ha avuto le sue belle occasioni Voi il locandiere mafittonieramente Goldoni non c'entrava niente Ma era giusto per flexare un po' il fatto che so dei pezzi di Goldoni a memoria Va bene basta ma non ci sarà Goldoni Non ci sarà il cavaliere di Ripafratta nella nostra locanda Bensì i personaggi delle fiabe che vedete qua sul nostro tavolo Giocheremo con il lupo cattivo, la regina cattiva, Cappuccetto Rosso, Jack e il fagiolo magico E i porcellini della fiaba dei tre porcellini anche se in realtà sarà molto più che tre Ci sono altri personaggi che sono quelli di cui abbiamo lasciato le tessere buttati là Che però non useremo in questa partita perché si usano sempre soltanto cinque personaggi mescolati come si vuole Ogni personaggio ci darà, avrà delle abilità, ci potrà dare dei soldi nel momento in cui lo piazzeremo Oppure alla fine della partita alcuni come la regina cattiva possono avere anche delle abilità permanenti che vi spiegheremo man mano Come funziona? Inizia l'ultimo da aver letto una fiaba quindi abbiamo scelto Vale Che parte con una moneta e io parto con due monete E quello che facciamo sarà guardare questa plancetta azzurra che ci dice quali ospiti sono pronti per entrare in locanda Quindi quale tessere possiamo prendere? Se prendiamo una delle prime due non ci costerà nulla La terza ci costerà una moneta, la quarta ci costerà due monete Prendiamo quella tessera e la andiamo a mettere nella nostra locanda Ovvero come vedete dalla terza camera abbiamo la nostra locanda che sarà uno schema tipo quello del Forza 4 In cui faremo cascare le tesserine La particolarità di queste tesserine come vedete è che su un lato sono colorate Eccolo qua come il nostro lupo Sull'altro lato sono in bianco e nero Questo perché nel momento in cui le andremo a mettere nella locanda Le metteremo in modo che verso di noi siano colorate Quindi tutto ciò che io vedrò grigio è perché l'ha messo Vale E anche voi vedrete grigio perché l'ha messo Vale Ciò che vedrete colorato è perché l'ho messo io Easy peasy La partita terminerà quando tre colonne della nostra locanda saranno piene Chi avrà più soldi vince Ehi vincito Io inizio proprio col lupo Ok il lupo che cosa fa? Come ci dice anche la carta riassuntiva del lupo cattivo Ci darà dei punti alla fine della partita O meglio delle monete Ci darà tre monete per ogni riga in cui noi abbiamo più lupi del nostro avversario In caso di parità nessuno prende niente Prego tesoro E lo vengo a mettere Qua Ok nel momento in cui si va a mettere una tesserina all'interno della locanda Per prima cosa si paga Si prende la tessera Ora poi si va a vedere se la casella in cui l'abbiamo messo è una casella speciale In quel caso si attiva la casella speciale E solo dopo si attiva l'eventuale bonus del personaggio Esatto Grazie Poi qui scorrono lì in giù Esatto E si mette un altro personaggio Allora io verrò a prendere il porcellino che scelgo di mettere qua al centro Il porcellino nel momento in cui lo posiziono come ci ricorda anche la sua carta Immediatamente mi fa guadagnare un'altra moneta E poi otterrò altre monete per ogni porcellino che fa parte del gruppo in cui quel porcellino è andato a cadere In questo caso ce n'è solo uno quindi non capita niente ma vedrete poi cose Quanti lupi Io continuo con il mio lupo Eh immaginavo però Speravo uscisse qualcosa di diverso Sto proprio al tuo tocchino Ok giustamente mi vieni a bloccare un po' Un altro porcellino Questo porcellino è andato al mercato Questo porcellino a casa è restato Allora io vorrei pagare due per poi guadagnare due Però potrebbe anche avere un senso Lo farò Dai io pagherò due monete che quindi vengo a scartare per prendere questo porcellino e metterlo qui adiacente al porcellino che ho già In questo momento quindi questo porcellino mi dà una moneta Più quanti altri porcellini fanno parte del gruppo in cui è caduto questo porcellino Uno quindi riprendo le due monete che ho speso E li mettiamo Mi direte ma perché l'hai fatto? Perché così ho una due tre caselle in cui poter far cadere altri porcellini e guadagnare tre monete Prendo la strega Ok la strega la regina cattiva ha un potere permanente Ovvero d'ora in avanti se io farò cadere un personaggio esattamente sopra la regina cattiva Dovrò dare se ce l'ho una moneta a vale E arriva Jack Allora io prenderò il lupo Il lupo The wolf È il vano E lo metto qui In questo momento sulla riga più bassa siamo pari come quantità di lupi Quindi nessuno sta prendendo niente Allora Un altro lupo È il lupo È il lupo E io prenderò la strega Ok Può anche scegliere di metterlo sopra la strega che ha già In quel caso non le dà cose Allora Allora Io Vabbè potrei farlo lì E poi fare tic e tac E ti Sì Ah o potrei anche fare Così Che mi conviene Allora io inizierò prendendo questa strega Che scelgo di venire a mettere qui sopra il lupo di vale Vedete che ho occupato la casella con la stellina La stellina che cosa ci permette di fare Io posso Non sono obbligato Ma posso Spendere una moneta Cosa che farò Per fare immediatamente un altro turno E l'altro mio turno sarà Pagare ancora una moneta Per prendere questo porcellino Venirlo a mettere qui E in questo momento faccio Uno Due Terrei monete E non è ancora uscita Cappuccetto rosso E Jack Non vi abbiamo ancora spiegato come fa Cosa fa Ma Allora Io farò che prendere il lupo E lo metto qua Ok così ti sei assicurata Che sulla riga più bassa C'hai tre monete Ecco la cappuccetto Ah io prenderò però Jack Jack cosa fa Come vedete sulla carta di Jack Ci sono delle tessere pianta di fagioli Questo perché nel momento in cui Noi andiamo a posizionare Jack Guadagniamo immediatamente una moneta Dopodiché prendiamo una pianta di fagioli E la andiamo a posizionare esattamente sopra Jack La pianta di fagioli non è un personaggio Ai fini degli effetti di carte Che si attivano con i personaggi Ma vedete che la mia pianta di fagioli È andata ad occupare questa casella con la corona Ogni corona ci dà immediatamente una moneta E quindi prendo una moneta Fai scorrere giù Sì prendo una moneta Ah scusa non ti ho dato Stavo pensando a cosa fare Mi sembra giusto Cappuccetto rosso invece cosa farà Ci darà punti per le nostre tessere Che avrà personaggio Che avrà tutto attorno Quindi non vale col fagiolo Allora io vengo a prendermi il lupo E lo vengo a mettere qua Così posso spendere una monetina Per fare un altro turno Ok Allora cappuccetto per me adesso non è così Spendo una monetina Per fare un altro turno Io mi prendo proprio Jack Ok Che lo metto qua Che mi dà una moneta Mi dà il fagiolino Me lo passi Che lo metto sopra Jack E ti dà un'altra moneta E mi dà un'altra moneta Brava E c'è un porcellino Allora io mi sa Che a sto punto Visto che cappuccetto a me non serve a niente Io però pagherò due monete Per prendermi questo porcellino Che messo qui Mi dà uno Due tre quattro monete E la casella con la X Annulla il potere del personaggio Che ci state mettendo dentro Quindi io mettendo lì un porcellino Non guadagno nulla Allora Cappuccetto rosso Vieni vieni qua Che se arriva Allora Cappuccetto rosso Ti darà punti per i tuoi personaggi Quindi non contano come personaggi Il fagiolo di Jack Né i ratti del pifferaio magico Che ha ortogonalmente adiacenti In questo momento Questo personaggio Da vale punto qua E punto qua Inoltre cappuccetto Quando solo alla fine della partita Darà quei punti Quando lo piazzi Non ti dà nulla Niente No Allora Io continuo con i porcellini Pago due Eh ma i porcellini Lo vengo a mettere Qui E mi dà Uno due tre Quattro Cinque Ma quello che hai piazzato Non ti dà il punto Sì Ti dà una moneta Più una moneta Per ogni altro Che c'è nel suo coso Uno due Tre Quattro Cinque Nel suo gruppo L'avessi messo qua Mi dava un'unica moneta Allora Cappuccetto rosso La strega Prenderò la strega Ok E la vengo a mettere qua Ok Allora E che a me Ora come ora Cappuccetto O lo metto Allora O prendo Jack Che però Mi serve fino a un certo punto Cappuccetto rosso Il fatto è che io Cappuccetto rosso Lo metto qua Però mi blocco Un po' i porcellini Idem qua E non vorrei Messa qua In realtà Mi vale solo il punto Per la strega Perché il fagiolo Non mi dà il punto E lì Anche lo mettesse Vale Qualcosa Non farebbe Proprio schifo Schifo Se no Pago una moneta Per mettere Jack Che però Mi permette Di fare un altro turno Che non mi serve Granché A meno che mi esca Un porcellino Però dovrei già pagare Una due monete Più altre due Per un altro porcellino Mi viene molto caro Quindi niente Dai io metto Cappuccetto E Verrò a metterlo qui Perché a me darà Pochi punti Però in realtà Ma anche te Perché quello là È un fagiolo Anche a te In realtà Non è che cambia Così tanto Però diciamo Che lì lo voglio Provare a lasciare Per te Allora Senti Io lo metto Qua Però poi mi blocco I porcellini Ma ne ho già fatti Tanti di punti Con i porcellini Dai lo metto qua Perché comunque Un mio personaggio Messo qui È vero che non si attiverà Ma comunque Mi varrà Per Cappuccetto Alla fine della partita Quanti Cappuccetto Cappuccetto con Cappuccetto Conta comunque Come un personaggio Sempre del tuo Tuo personaggio Quindi che tu vedi Colorato Dal tuo lato E Funziona Allora Mentre c'è Pinocchio Che fa la stessa cosa Ma con i personaggi Avversari Dunque Dunque Facciamo che Prendo Jack Ok Cappuccetto Non ci piace E lo vengo a mettere Qui Ok Gli cresce Sul fagiolo Che ti permette Di fare subito Un altro turno Faccio un altro turno Prendo Cappuccetto Ok E va bene Ma io Cappuccetto Comunque qua Ce la vengo a mettere È chiaro Perché ora Io ho il porcellino Che però Messo lì Non mi si attiva E non mi dà Bonus Non mi dà Bonus Però Io non ho soldini Allora È anche vero Che io mettendo lì Allora Io metterò Qui Cappuccetto Che è vero Che questo Cappuccetto Trovandosi in una stanza Con la X Non attiverà Il suo potere Quindi non mi darà Punti alla fine Della partita Che sarebbero Due punti Però comunque Per questo Cappuccetto Mi funziona E Non l'ho Già che non l'ho pagato Partita finisce Quando si riempie Un tre colonne È solo Cappuccetto Arriva Non sono più I lupi sono arrivati Tutti all'inizio E basta E io Non ho punti Dai lupi Porcellino Che mi dà Una monetina E giù Ho dato il lupo? No A sto punto Allora Io Insisto Con Cappuccetto Qui Che mi dà punti Alla fine Della partita Mi dà un punto Questo Cappuccetto Perché gli ho aggiunto Su una tessera Personaggio mia E questo anche Perché a sua volta Ne tocca uno È arrivato il lupo È lupo È lupo È lupo È lupo È lupo Allora 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 Il lupo The wolf Sì non ti davo Di sicuro Una moneta Pensavo prendessi Il lupo C'ho due monete E vabbè Io comunque Ne faccio tre E vabbè Falli pure Io ne facevo Meno uno Giusto Io pago una moneta E prendo il lupo Lo vengo a mettere Qui La regina cattiva Sotto è mia Quindi non mi devo Dare nulla Fatto In questa riga Ho io la maggioranza Di lupi E mi sono guadagnato Tre punti Un porcellino Allora Cappuccetto rosso Vieni Vieni Qua E la metto Qua E puoi pagare Una moneta Per fare immediatamente Un altro turno Pago una moneta E ne pago un'altra Per prendere questo porcellino Che metto qua E fare due monete Io per non saperne leggere Ne scrivere Faccio così Perché due corone Guadagno due monete Ed è finita Una Una Ah sì No Dicevo No Tre colonne Devo finire È finita La prima colonna Allora Io farei una cosa Cioè proprio la mossa Più forte Vale A parte tutto Fai tre monete a gratis Magni anche no Scusa Metti un porcellino lì Fai uno due tre porcellini Ah sì No Stavo a dare un'altra cosa Ah ok Fai un po' di combo Ah Ah Ma non ci arrivavo Due E tre Allora Io però Ah no Perché non mi vale solo Quei personaggi Dicevo Metto Jack qua Così Entrambe queste cappuccette Sono vicine a una mia tessera Ma solo i personaggi Il fagiolo di Jack E poi se la metti qua Annulli Sì Annullavo Jack E quindi non cresceva il fagiolo Brava Sì Brava Vale Hai ragione Allora Però a sto punto Io faccio questo Che comunque un ponticino Me lo darà Perché c'è un personaggio Attorno a cappuccetto E finisce anche la seconda colonna La partita termina immediatamente Quando Eh Facciamola finire La fai finire Sì Ok Vale Mette lì e fa finire la partita Quindi Siamo giunti alla fine della partita Finisce Così Poche Guadagnate nel corso della partita Si vanno ancora A calcolare I punti dati A fine partita Nel nostro caso Da cappuccetto rosso E da Il lupo cattivo Partiamo dal lupo cattivo Che è qua In questa riga Avale la maggioranza di lupi Quindi fa tre monete In questa riga Avale la maggioranza di lupi E quindi fa tre monete Una, due, tre In questa riga Ho io la maggioranza di lupi E quindi faccio tre monete Due e tre Dopodiché Andiamo a vedere Cappuccetto rosso Che per ogni nostro personaggio Che ha ortogonalmente adiacente Ci fornisce una moneta Partiamo dai miei Sì Allora Questo qua mi da Uno, due, tre Questo qua In una casella con la X Quindi non mi da nulla Questo qua mi da Uno e due Basta Vediamo quelli di Vale Allora io ho lei Vale a lei che le da Uno, due e tre Hai lei Che ti da Uno e due Perché il fagiolo Non lo contiamo Abbiamo lei Che ti da Uno e due Abbiamo lei Che ti da Uno e due Abbiamo lei Che ti da Uno E che ha più monete Ha vinto Contiamo Facciamo i gruppetti Da cinque monete Va bene Così è più facile Puoi contarle Allora Cinque Cinque Uno, due, tre E cinque Uno, due, tre, quattro Cinque Chi avrà vinto Chi lo sa Chi sarà il più ricco In caso di parità Spareggia Lo sapevo Chi ha Fatto finire la partita Chi ha più personaggi Non me lo ricordo Si spareggia però Tu quanto hai Io ho Cinque Dieci Quindici Venti Ventuno Contro i miei venti La valetina Ma ti ha dato un sacco di contatto C'è un piccetto rosso Che vuole cercare di Ma il lupo ti ha vogliato solo tre monete Più di me Non te ne ha date poi chissà quante Oh sì E niente Ero stracovinto Lo so che ero stracovinto Stracovinto di aver vinto E dicevo Oh povera Vale Quest'anno Il divario è sempre più ampio E uffa Però non è che posso giocare male Solo per farla vinta Come i bimbi Ha vinto Brava Vale Complimenti Un applausone a Vale E questo signore e signori È Fairy Tail In Noi l'abbiamo recuperato L'ultima play Che era in scontone So che si trovava in sconto Anche fino a un po' di tempo fa Non sappiamo se al momento Della registrazione si trovi Ma crediamo di sì E nel caso vi lasciamo un link Come sempre Qua sotto in descrizione Noi come sempre Vi ringraziamo Per essere stati con noi Vi ricordiamo che Qui a Casa Giullari Si gioca per giocare I Giullari vi salutano E che gioco sia con voi Ciao 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 Ciao